ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti su Lely King TV qui abbiamo un altro bellissimo pacco che ci ha mandato www.manuelcant.it come al solito usando il codice mk5 potete avere un ulteriore sconto sul suo sito ragazzi dove trovate tantissimo relativo alle figurine dai calciatori alle figurine dei cartoni animati quindi andate a vedere ragazzi perché ci sono dei pezzi veramente unici detto questo ragazzi e ringraziando manuelcant quindi ragazzi grazie a manuelcant andate a vedere anche il suo sito spacchettiamo questo pacco vai anita scarta la carta vediamo cosa c'è wow ma questo è un regalone per anita perché manuelcant facciamo vedere sono tantissime manuelcant ci ha mandato tantissime bustine di yu hu che anita sta facendo la collezione gli piacerò tantissimo vero allora apriamo io voglio prima il mio preferito e qual è il tuo preferito non suggerisco però non dirlo ai gatti ok quello fu il mio bianco oh c'è quello ho preferito mamma questo ho preferito papà ecco qui vai anita incomincia a spacchettare vediamo cosa troviamo ecco il mio preferito ecco il suo preferito che è questo qui vai anita spacchetta intanto spacchetto anche una bustina io io spacchetto questa davvero stai faccio un video con mamma dopo facciamo un video con mamma va bene ok spacchettiamo ok dammela a me le carte vediamo cosa abbiamo trovato anita ha trovato questo questa qui è adorabile io ho trovato una rana è vero è adorabile mettono qui ho trovato questa figurina qui wow una zebra fucsia ha trovato anita poi un bisonte vai apriamo un'altra bustina un elefante un elefante una parte della figurina con tutti i personaggi una rana il mondo il mondo il mondo scusami anita si vuole mettere da parte la bustina con il suo personaggio preferito è vero è vero è lui abbiamo un'altra bustina vediamo cosa esce fuori questo ci manca ci manca fammi vedere wow che bello questa è bellissima anche questa ci manca secondo me che cos'è un pipistrello che cos'è si è un pipistrello a maschio ma questo ce l'abbiamo? mi pare che è il messaggio che l'ho trovata prima si eccola qui si ce l'abbiamo ok allora me la tengo io va bene uh anita guarda ho aperto due pacchetti insieme ho sbagliato il coccodrillo il coccodrillo che paura oh il coniglietto chef ecco il tuo personaggio preferito non è lui si è bellissima cibo cibo si chiama? si cibo mi piace tanto le noci che le raccoglie sempre e le mette in conservazione guarda è pure tutta fucsia una giraffa fucsia questo io l'ho visto in episodio l'hai visto? si e che facevano in questo episodio? in questo episodio lei aveva perso il suo libro ah capito? e loro sono andati a cercarlo con lei ah ho capito mentre lei questo qua non so se lo trovo fammi vedere se lo trovo in mezzo alle figurine in mezzo alle figurine di sicuro ehm senti se mi gioco quale questo? no non so se sto non so se non c'è nelle bustine quel personaggio lì voglio vedere quello là ok vuoi questo? questo qui il panda ho trovato il panda questo? questo è molto simpatico di personaggio no ho trovato il panda è troppo carino quale c'è qua? che c'è là? il bambù? si il bambù il panda mangia il bambù questo è da mettere sul panda ragazzi queste figurine logicamente le trovate ad un prezzo eccezionale sempre su www.manuelcante.it quindi ragazzi andate a vedere se vi interessano questo tipo di figurine ma ce ne sono veramente tantissime altre e papi una torsetta per te ok papi ma ti sei accorto che qui c'è la farfalla fucsia? hai visto? anche la farfalla fucsia c'è anche qui c'è la farfalla fucsia guarda che bello un gufo ecco il tuo preferito con la figurina speciale aspetta questo devo farlo da mamma questo è il tuo preferito dopo glielo facciamo vedere no devo farlo vedere adesso a mamma perché è il tuo preferito va bene via allora questo è il mio preferito che bello te l'avevo detto questo è il mio preferito eh ma quella è la figurina eh vedi quella speciale si apriamo un altro pacchetto qui c'è la sua pagina speriamo che trovo un doppione di quella super speciale addirittura doppione la vuoi trovare? ah ma io ce l'ho trovata la tattaruga oh questa scelta l'abbiamo incetturata è entrata eh sì eccola qui dovrebbe essere questa ok apriamo un altro pacchetto penso che se stanno guardando in cielo penso che guardare delle goccelle che cazzo in testa quindi qui è dove è quando facevano i vecchi invisodi facevano i vecchi invisodi facevano i vecchi invisodi o aveva il suo scompattimento per creare la sua cosa vera però 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 i miei invisodi non fanno più così vanno nelle tutti nello spazio di iufu ah capito che hanno le loro cose nello spazio iufu ho capito Anita è proprio un'esperta di questo cartone animato ah un orso un orso attenta eh ti morde? si ma è tutto quello che non mordo vestiti qua ah non mordono meno male e non c'erano i denti guarda non ce l'hanno i denti sicura? no guarda è vero non li hanno perché così la bocca sembra più simpatica ah quindi sono stati fatti apposta con la bocca più simpatica l'hanno fatti così per assimilare a degli animali che sono piccoli ma a grossi dall'immagine che c'erano molto velo capito? l'hanno fatti sembra così questi tutti essi animali ho capito capito togliandogli i denti e la bocca le hanno le pinze ma non sono uguali riesco a muzzicare uguali le cose preparano a mangiare vai apri un altro pacchetto tu Anita e poi direi che facciamo un altro video con i pacchetti che ci sono rimasti sono tantissimi perché ringraziamo ancora www.manulcante.it e ci ha mandato veramente tantissime bustine facciamo vedere cosa ha trovato Anita mi è caduta la boccella in testa questo abbiamo già trovato quello sì sì mi sa di sì abbiamo trovato prima questo ce l'abbiamo e anche questo qua noi ce l'abbiamo questo facciamo vedere anche le altre che hai trovato Papi lo sai che questo ce l'abbiamo sul nostro album mi sa di sì questo lo mandi mentre questo lo tengo io va bene ragazzi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti